A Pisa annullate i trasferimenti degli 82 dipendenti della Ciglobal Contratti di apprendistato, formazione e piano per l'occupabilità, una marcia in più per i giovani Bentornati al TG Lab, prosegue il confronto per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro del terziario commercio distribuzione e servizi che interessa complessivamente oltre 3 milioni di lavoratori Una trattativa che si preannuncia in salita vista la posizione ancora distante di ConfCommercio alla quale Filcams CGL, Fisaskat Cisle, Wiltux e Will hanno chiesto di esplicare in un documento i propri intendimenti E' stato inoltre fissato un fitto calendario di incontri per arrivare rapidamente alla chiusura di un contratto scaduto lo scorso dicembre Dare più forza al secondo livello per la Fisaskat tra gli obiettivi primari della trattativa in modo tale che la contrattazione decentrata possa decollare in maniera efficace a livello territoriale Abbiamo appena terminato 3 giorni di trattativa con ConfCommercio per rinnovo del contratto del commercio Le posizioni sono ancora distanti per alcuni versi, su alcuni temi non sono neanche condivisibili però riteniamo che ci possano essere le condizioni nei prossimi giorni di poter andare più a fondo ai temi In particolare dalla prossima settimana, dal giorno 23, riprenderemo una ristretta per verificare fino in fondo tutte le possibilità di trovare soluzioni agli argomenti ancora non discussi In particolare il nostro obiettivo è di dare molta forza al secondo livello perché vogliamo che la contrattazione di secondo livello possa decollare in maniera importante ed efficace in tutti i territori Quindi dalla prossima settimana entreremo nel merito delle materie a essa dedicate e vedremo fino in fondo la volontà di ConfCommercio di arrivare rapidamente, come noi chiediamo, alla chiusura di questo contratto Avviato il confronto per il rinnovo del contratto nazionale per i portieri dipendenti da fabbricati Il servizio di Fuglia Silvestroni Sono circa 35.000 lavoratori addetti ai servizi di portierato il cui contratto è scaduto lo scorso dicembre e per il quale la Fisaskat ha presentato una propria piattaforma È un settore in una situazione di generale trasformazione sia per l'avvento delle nuove tecnologie che per le dismissioni ancora in atto dei grandi patrimoni immobiliari per i quali è necessaria una gestione oculata per evitare danni sul piano dei diritti e dell'occupazione Secondo Mario Piovesan, che per la Fisaskat segue la vertenza la categoria ha necessità di maggior ruolo e dignità considerando che oramai il portiere non svolge più esclusivamente un servizio di guardiania ma avendo acquisito maggiore professionalità e grazie all'utilizzo dell'informatica è diventato un punto di riferimento per tutti i condomini Occorre inoltre saper interpretare e valorizzare le spinte all'innovazione investendo in formazione e valorizzando anche le esperienze di contrattazione sociale individuate sul territorio Il tutto finalizzato alla crescita e al consolidamento dei livelli occupazionali Deve essere infine rafforzato il welfare contrattuale utilizzando in modo sinergico gli strumenti della bilateralità La trattativa è partita non molto bene all'inizio con tutta una serie di no stiamo invece adesso riscontrando delle aperture soprattutto nel campo del welfare contrattuale nel senso che noi riteniamo che come abbiamo fatto come categoria in altri settori vedi la previdenza e vedi soprattutto l'assistenza integrativa abbiamo riscontrato una sensibilità anche da parte loro e quindi una strada che si può percorrere Riteniamo che da oggi e nei prossimi due incontri uno convocato per il prossimo 22 e l'altro i primi di marzo ci siano le condizioni per cominciare anche ad affrontare i termini di carattere economico e quindi direi che la trattativa comincia ad avere un po' più di corposità rispetto a come si è fatto in questo periodo credo che le aperture che abbiamo cominciato a registrare oggi dimostrano una volontà anche da parte della controparte di essere un po' più aperte e di poter arrivare in tempi brevi a dover chiudere questo contratto collettivo di lavoro Buone notizie per gli 82 lavoratori della C-Global di ospedaletto a Pisa ai quali nell'ottobre scorso la società di autosourcing dei servizi bancari aveva comunicato il trasferimento alla sede di Collecchio Il giudice del lavoro ha dichiarato infatti la nullità della decisione condannando la società a reintegrare i dipendenti nei rispettivi posti di lavoro la soddisfazione dei sindacati nelle parole del segretario generale della Fisaskat di Pisa Vittorio Salcedo A Pisa è stata dunque mantenuta l'occupazione come era già nevole del sindacato la C-Global di cui sono iscritti tutti i ricorrenti è intervenuta nel giudizio attraverso le segreterie nazionali e territoriali delle due categorie la C-Global di Pisa di cui la società aveva deliberato la chiusura rimarrà dunque aperta i legali che assistono a questa avvertenza i lavoratori e il loro sindacato hanno rilevato come il giudice abbia accorto in pieno quanto sostenuto dai ricorrenti che ciò da parte della C-Global vi era stata una clamorosa violazione dell'accordo sindacale siglato il 5 febbraio 2010 che scudeva la chiusura delle sedi di Pisa e di Firenze e garantiva la stabilità territoriale del personale occupato nell'ambito della nostra regione pochi giorni dopo la firma di tale accordo la C-Global si attivava smentendo l'impegno che aveva assunto per chiudere questi due stabilimenti e trasferire tutto il personale a Colleggio Parma il giudice con la sua pronuncia ha restituito il giusto valore degli impegni che l'azienda aveva assunto ed aveva poi così manifestato tentato di disattendere Genova si sono verificati comportamenti intimidatori e violenti nei confronti di alcune delegate della Fisaskat Cisla durante una manifestazione di lavoratrici delle imprese di pulizia davanti il palazzo dell'azienda municipale dei trasporti atteggiamenti questi ha dichiarato Pierangelo Raineri segretario generale della Fisaskat che aggravano ulteriormente il clima di intolleranza e rischiano di alimentare pericolose azioni contro la democrazia sindacale nella Fisaskat e nella Cisla, proseguito Raineri si faranno mai intimorire e continueranno a lottare per un sindacato libero garanzia della base democratica della nostra società la Fisaskat ha espresso la propria solidarietà ai dirigenti ai quadri agli operatori e delegati agli iscritti della Fisaskat Cisla di Genova Integrazione salariale nei giorni scorsi l'Inps ha provveduto ad aggiornare gli importi in vigore dal 1 gennaio e per tutto il 2011 dei trattamenti di integrazione salariale di mobilità, di disoccupazione ordinaria e speciale e dell'assegno per i lavoratori socialmente utili i lavoratori interessati percepiranno un trattamento netto di 853,84 euro se durante il rapporto di lavoro avevano una retribuzione inferiore o uguale a 1.961,80 euro mentre per chi percepiva una retribuzione superiore il trattamento ammonterà a 1.026,24 euro sarà a 541,38 euro invece l'importo mensile dell'assegno aspettante ai lavoratori socialmente utili Combipel raggiunto l'accordo in sede sindacale per l'attivazione della cassa integrazione per i 73 dipendenti degli 11 punti vendita che l'azienda leader nel settore dell'abbigliamento chiuderà nei prossimi mesi non è prevista la rotazione e per limitare gravi conseguenze all'occupazione sono stati concordati con fronte a livello territoriale finalizzate le intese circa trasferimenti le eventuali modifiche dell'orario di lavoro e la volontarietà ad accettare il part time l'azienda si è resa disponibile ad anticipare l'importo equivalente all'integrazione salariale Obibrico sottoscritta l'ipotesi di rinnovo del contratto integrativo aziendale per il marchio leader in Europa per il fai da te sono stati armonizzati diversi istituti contrattuali ed è stato introdotto nel meccanismo di premialità un elemento di valutazione qualitativa che valorizzerà la capacità dei singoli punti vendita è stato inoltre rafforzato ed aggiornato inoltre il sistema delle relazioni sindacali sia a livello nazionale che decentrato con un ampliamento delle materie oggetto di informazione e di confronto l'intesa avrà validità triennale torniamo a parlare di giovani e del piano per l'occupabilità varato un anno fa dal governo ma anche dell'importanza strategica dei contratti di apprendistato e della formazione quale strumento per integrare le spesso deboli competenze del sistema scolastico e facilitare l'ingresso proprio dei giovani nel mercato del lavoro il nostro servizio preoccupante è il quadro del nostro mercato del lavoro soprattutto per i giovani il cui tasso di disoccupazione è nettamente superiore a quello rilevato in altri paesi il 29% contro la media dell'Unione Europea del 20,4% alla luce di questo dato è indispensabile dare un ulteriore impulso al piano giovani presentato dal governo lo scorso anno piano per cui sono state stanziate risorse per oltre un miliardo di euro suddivise nelle sei linee di azione tra cui monitoraggio per il breve e lungo periodo delle professionalità richieste dal mercato del lavoro e quelle in esso disponibili orientamento alle scelte scolastiche e formative integrazione scuola-università-lavoro servizi di accompagnamento al lavoro contratti di primo impiego autoimprenditorialità diffusione della cultura della previdenza e della sicurezza del lavoro nelle scuole contrasto al lavoro giovanile regolare e sommerso va inoltre rafforzato il contratto di apprendistato che deve diventare canale di accesso preferenziale al lavoro un vero e proprio contratto di primo impiego ma la parola d'ordine è la formazione continua per favorire la crescita professionale quale garanzia per la stabilizzazione dei posti di lavoro la risposta a questa situazione è quella di non di usare il bilancio dello Stato anche se ci sono alcune misure in parte attivate in parte che sono in corso di attivazione per incentivare la stabilizzazione o l'assunzione di giovani ma la risposta principale è nell'investimento delle competenze con la buona formazione e soprattutto nella promozione quanto più del contratto di apprendistato costruire delle strategie per dare prospettive anche ai giovani ora che in particolare si registra una prima ripresa ancorché timida, ancorché selettiva qui il dato che sorprende è che abbiamo tantissimi giovani in cerca di lavoro disoccupati, talvolta scoraggiati che non più cercano lavoro ma abbiamo anche tantissime imprese che cercano lavoratori e non li trovano quindi un tema su cui lavorare è sicuramente quello di una maggiore efficienza dei canali di incontro fra domande e offerte di lavoro il problema della disoccupazione giovanile sicuramente legata non a una cogiuntura soltanto attuale vengono già accorpati a problemi strutturali non da meno il problema della forvice che allarga sia per quanto riguarda la formazione che non viene agganciata al lavoro e sicuramente da questo punto di vista questo strumento attraverso le linee guida per la formazione, questo impegno delle regioni a poter fare una formazione mirata all'occupazione daranno un eslancio e si spera che attraverso l'istrumento dell'apprendistato si possa appunto dare quelle opportunità occupazionale o quelle opportunità formazione agganciata al lavoro termina qui questo appuntamento con il TGLab vi ricordiamo che siamo presenti su Youtube e Facebook sul canale Fisaskat e Cisl e che potete scriverci all'indirizzo mail redazione tglab-fisaskat.it grazie per essere stati con noi e arrivederci la prossima settimana se hai bisogno di salvaguardare i tuoi diritti oppure vuoi informazioni sul tuo contratto di lavoro o hai bisogno di notizie su busta paga malattia e infortuni e ogni altra consulenza per te c'è la Fisaskat Cisl tutela a 360 gradi per i lavoratori del commercio turismo e servizi siamo su internet all'indirizzo www.fisaskat.it dove troverai tutti i riferimenti per metterti in contatto con le nostre sedi territoriali e regionali alle quali ti potrai rivolgere per chiedere informazioni e per ogni pratica relativa al tuo rapporto di lavoro in quanto sia come un'initza a cura di lavoro e per ogni arbe' la parte in quanto sia come un'initza a cura di lavoro le VOG che si vede una nuova che si vede una plassione